E' un intervento fondato su due pilastri, quello che il Governo si appresta a varare con un nuovo DPCM di contrasto alla pandemia da Covid. Da una parte un mini lockdown su base nazionale, valido per tutti, dall'altra interventi condivisi più restrittivi e dinamici per le regioni che presentano livelli di rischio più alti. Tra le misure nazionali il Governo propone il divieto di circolazione nella fascia serale, non ci si potrà spostare tra regioni che hanno dati epidemiologici classificati a rischio alto o molto alto, sarà possibile l'aumento della didattica a distanza al 100% per le superiori e il tasso di riempimento del trasporto pubblico locale non potrà superare il 50%. I centri commerciali chiuderanno sabato e domenica, salvo supermercati e farmacie. Chiudono musei e mostre, così come i corner adibiti a scommesse ai videogiochi. E' ancora scontro tra Governo e regioni sulle misure da adottare per il contrasto al coronavirus. L'esecutivo illustra agli enti locali il DPCM e deve vedersela con la protesta di De Luca, Zaia e Fontana, i quali da un lato chiedono che i lockdown territoriali siano condivisi dal Governo e che il blocco della circolazione valga per tutti, dall'altra esigono automatismi sui ristori. Ma non sono solo i governatori ad alzare la voce. In Parlamento il Premier Conte incontra l'opposizione aperta dei Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, i quali accusano l'esecutivo di errori e ritardi. La situazione particolarmente delicata al Senato, dove la maggioranza si muove sul filo di pochi voti. Anche la politica e le istituzioni piangono Gigi Proietti. Per Sergio Mattarella l'attore era l'espressione genuina dello spirito romanesco, nonché maestro di generazioni di attori. Ci lascia un genio, dice Giuseppe Conte. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini lo ricorda come un artista geniale e un sognatore. Profondo, ovviamente, il legame tra Proietti e la sua città. Un re di Roma, twitta Paolo Gentiloni. Oggi Roma ha un colle in meno, gli fa eco Walter Veltroni. Proietti aveva sostenuto diverse battaglie civili, tra queste il nonno e il referendum sul divorzio, interpretato da par suo con un celebre sketch. Si è spento questa mattina a 91 anni in provincia di Varese e padre Bartolomeo sorge. Teologo e politologo, era noto come il gesuita che la mafia voleva uccidere. La sua morte lascia un vuoto nella società italiana, dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ne ricorda la capacità di schierarsi in prima fila per combattere diseguaglianze e ingiustizie. Ebbe un ruolo importante nel cambiamento della città, aggiunge il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, un punto di riferimento per generazioni di cattolici democratici, secondo il ministro per i beni e le attività culturali e il turismo Dario Franceschini. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada